Si conclude la stagione della lirica 2022 del Teatro Maruccino con il Do Pasquale, l'opera buffa di Gaetano Donizzetti, che a dieci anni di distanza torna sul palcoscenico del Maruccino. Dopo il successo della Madame Butterfly di Puccini e della Cavalleria Rusticana di Mascagni, in scena il celebre compositore. Stamani le prove aperte agli studenti che hanno scoperto l'opera lirica e un fuori programma, il coro del Maruccino, dal palcoscenico in strada lungo il corso e intonare le note del Don Pasquale. E questa opera ha un contesto un po' nuovo perché tutti i cantanti di scena sono molto giovani. Sono tutti giovani selezionati in un concorso internazionale dove comunque sono risultati i migliori cantanti e in questo caso è addirittura, credo, l'undicesimo allestimento in Italia di quest'opera che ha avuto un grandissimo successo, tra l'altro che si pregia delle scenografie del maestro Rubertelli. E infatti, chi avrà la fortuna di assistere a quest'opera, scoprirà qualcosa che penso non si sia ancora visto qui. Oltre a una bellissima regia del maestro Badouin, che qui è ripresa da Magiolene Muscotti. E il coro del Teatro Maruccino, ancora protagonista, tra l'altro in vesti molto diversi dalle altre opere, ma sicuramente in questo caso divertenti e coinvolgenti, entusiasmanti, anche per i più giovani. E abbiamo visto gli studenti scoprono la lirica. Il teatro deve essere un po' come la scuola, se vogliamo, è la casa degli studenti. E proporre loro, piuttosto che una materia curriculare, come materia curriculare, un'opera, un allestimento operistico, penso che sia una chiave giusta per coinvolgere in maniera leggera, passatemi questo termine, ma allo stesso tempo con tanto impegno, con tanta concentrazione e con tanta preparazione che ci ammonte. Il cast prosegue il maestro Mazzoccante e mette insieme Giovani talenti e promesse della lirica. Il Don Pasquale andrà in scena il 9 dicembre alle ore 20 e 30 e l'11 dicembre alle ore 17 e 30. Ma in verità, proprio lungo la strada si incontrano persone, e la musica incontra persone che normalmente o comunemente magari non hanno mai avuto modo di entrare in teatro. Potrebbe anche essere un'occasione questa per scoprire qualcosa di nuovo, di intrigante, che probabilmente qualcuno non ha mai avuto l'opportunità di scoprire durante la propria vita e potrebbe essere invogliato a venirci a trovare qui a teatro venerdì sera o domenica.